Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022 pronti per il Gran Premio di Silverstone con la nostra sportiveggiante. Siamo pronti per la gara dopo aver fatto delle prove libere qualifiche, non andate male, in realtà Silverstone è una di quelle, come detto, la mia più grande difficoltà è quella oltre al controllo dell'auto, anche quella di fare un po' le misure dei circuiti. Silverstone in linea teorica è uno di quelli abbastanza fattibili, cioè, tra virgolette, quello che ti dà forse meno problemi per quanto riguarda i punti di frenata, insomma, è un po' più gestibile, diciamo così. Naturalmente tutto si basa anche su quelle che sono le prestazioni dell'auto, ma per ora... Lando Norris e Perez Lo scienziato? Ricciardo Eh? Dai, eh E Lance Stroll Zunoda Albon Esteban Ocon E Fernando Alonso Drugovic Leclerc Mick Schumacher E Kevin Magnussen Oscar Piastri Latifi Tictum E Guanyu Zou Dai, diciamo che anche Piastri non è arrivato ultimo, quindi... Buono, buono Intanto, signori, andiamo a vedere un attimino quella che è la strategia di gara, va bene anche così, ci può stare Allora, allora, allora Vediamo un attimino Togliamo un po' di benzina, non troppa, perché poi non so bene come si regola, quindi facciamo che è meglio che ne rimane un pochino, non che stiamo a secco Allora, andiamo con il giro di formazione Io, come sempre, vi ricordo ragazzi di lasciare like e condividere questi video per supportare la serie, il canale, mi raccomando Lasciate anche un commentino e vi ricordo anche che stiamo facendo diverse serie, tante anche in live, quindi seguitemi sull'altro sito per le live Poi le live le ritrovate sul secondo canale Stiamo facendo anche diversi episodi proprio a sé stanti, tipo FIFA, lo sto facendo sul secondo canale con il mitico Moragam Signori, torniamo ai vecchi tempi con il Moragam, quindi non ve lo... non vi perdete neanche quello E prosegue anche la nostra avventura con Formula 1 Manager, rimanendo in ambito di motori Allora, qua, signori, abbiamo strappato una qualifica in settima posizione, quindi dobbiamo cercare di farci valere Nel mentre sto facendo sempre più occhio a questa livrea e sapete che non mi dispiace All'inizio ero un po' titubante ma pian pianino mi sto abituando e non mi dispiace per niente Oh no, dai Naturalmente noi andiamo sempre con i nostri classici colori Sportiveggiante quello, magari un giorno faremo anche una livrea commemorativa Attenzione Oh, chi è che sta tamponando? Attenzione qui, Ricciardo chiude, chiude bene in realtà mi fa perdere un po' di tempo perché Volevo attaccarlo all'interno ma non ce l'ho fatta, intanto ci siamo difesi tantissimo su Stroll E qua il problema è che quando stanno in bagarra tra di loro sono pericolosissimi Perché hanno dei momenti in cui inchiodano tantissimo e quindi è un po' problematico Per il momento stiamo tenendo Per il momento stiamo tenendo Un po' lunghini ma va bene Abbiamo perso una posizione su Ricciardo ma Se riusciamo comunque a tenere il truppone Mamma mia Che staccata, che ingresso su Daniel Precisi, puliti Di finezza Oh Mamma mia, l'arriviamo a Oh, giovane, stai calmo, abbiamo già superato il buon Daniel Tra l'altro con un ingresso in quella curva spaventoso Davanti a noi l'altra McLaren Bilando Norris Che è dietro a Sergio Perez Sì, qui a Silveston mi trovo Cioè, ve l'ho sempre detto, non è uno dei miei circuiti preferiti Ma a livello di mancanza di traiettorie È uno di quelli che forse riesco a Le ultime parole famose Non ci spiantiamo male Però che riesco a tenere Un po' di più Porco due Norris, non devi frenare là Devi frenare un po' dopo Vai, vai, vai Ci buttiamo all'interno qui Attenzione, va a lungo anche Perez Due posizioni prese in un colpo solo per la sportiveggiante Mamma mia, che gara che sta uscendo Adesso che possiamo usare il DRS Davanti abbiamo Hamilton Troppo lontano Andiamo a prendere Lewis Hamilton Che adesso può usare Il DRS Quindi un pochino lo perdiamo Però abbiamo fatto un grande assalto Su Norris Perez Errore per lui In questo momento stiamo rimanendo a un secondo e due Il problema viene adesso che Aspetta che siamo stessi sotto il secondo Dai, dai, rimaniamo così Grande, grande così Allora, ho optato non per un assetto troppo scarico Perché indipendentemente dalla velocità Qui Dobbiamo avere un buon controllo per questi curvoni Quindi Sto riuscendo per il momento A non bloccare in quella curva Dove nelle prove libere Mi è capitato Mamma mia Sta ma spingere A pelo Signori, oggi Sta ma spinge forte Cioè, siamo vicini Anche ai primi Clamorosamente con la sportiveggiante Anche la Mercedes Sta andando bene oggi Con Lewis Hamilton Signori, ci siamo avvicinati tantissimo Mentre lì davanti Max Verstappen Inizia a provarci su Pierre Gasly Il problema è che si è avvicinato un pochino anche Norris La finestra del TikTok è aperta Vorrei provare a Superare almeno Lewis Se possibile Siamo tutti qui E anche Norris però si è avvicinato Perché evidentemente questi qua davanti un po' hanno rallentato Attenzione Ci aspettiamo Una perdita di aderenza Da un momento all'altro Eh, lo so ma Vai Attenzione a Norris Che lì si è avvicinato un pochino Adesso dobbiamo fare il pit Ma Non so se lo fanno pure loro Quindi nel caso Se riusciamo a Uh Mamma mia Che rischio E allora aspetta Lascia fare Signori Lascia fare Lo so che non tengono più le gomme Signori Ma dobbiamo fare un giro della madonna Adesso Anche Gasly Spingerà tanto Purtroppo ci giochiamo qua Il BRS Ma Dobbiamo provare a fare un overcut Su almeno Hamilton Per il momento sta tenendo bene l'auto Dobbiamo scendere di qualche Decimo Eh Una parola Eh va troppo forte Gasly Peccato Peccato Se avessimo Avuto la cattiveria E la potenza magari Un po' di più per Incollarci a Pier Gasly Dai 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 Speriamo di aver fatto Un buon giro Eh Perez Si è avvicinato Però pure lui Si è riavvicinato Dopo l'errore che ha fatto Allora Vediamo un attimino Se riusciamo a guadagnare Su Lewis Hamilton Eh Mi spiace però Oscar Ma Vabbè Prima che arriva Vai 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 Attenzione Perché abbiamo buggerato Gasly Ai box Abbiamo buggerato Gasly Intanto arriva Carlos Sainz Attenzione Gomme freddissime ma Hamilton ha messo le dure Anche Sainz Non ce lo perdiamo Eh le gomme sono Freddissime Attenzione si sta avvicinando Hamilton Vabbè con un giro prima Però comunque Ha funzionato l'overcut Perché abbiamo guadagnato su Perché abbiamo guadagnato su Hamilton Superstappen pure E fino a quando Ok adesso dovrebbero essere Entrati in temperatura Ma ho perso Pochino di Terreno Abbiamo guadagnato Nel pit In realtà anche su Gasly Evidentemente Pit lento Per i tecnici Ferrari Molto realistica Come cosa Se vogliamo dirla Guardalo Norris Indiavolato Lando Dai questa mappia Pierre Sì Pierre Sainz Pierre L'abbiamo già Piato L'abbiamo già Superato Strategia un po' strana Quella della Ferrari Con Dure su Sainz Attenzione a Norris Che comunque Sta a spingere Vai che ce l'abbiamo Signori Ce l'abbiamo Siamo incollati A Carlos Sainz Magistrale Però la La condotta Qui a Silverstone Usciamo già più veloci Qui All'esterno Riusciamo a Sverniciarlo In modo devastante A prenderci La giusta Traiettoria E insomma Sorvoliamo Sulla giusta Traiettoria Ma va bene E adesso Cerchiamo di Andarcene Andronnamo Attenzione qua Vai così Dritto per dritto Senza alzare il piede Vai così Vai così Attenzione perché Norris Secondo me Lo pia Sainz Eh Eh mi sa Sia Oh Eh stava a vedere I distacchi Sia noi che Norris Abbiamo fatto Un'ottima condotta Gara Guardalo lì Norris Norris Lo piglia Sainz Guardalo Norris Forse è un po' Un errore Anche quello Di mettere Le dure Su Sainz Effettivamente Una mossa Con poco senso Eh però Attenzione Che questo Ce le appia Pure a noi Oggi Norris Indiavolato Ma noi Più di lui Sette decimi Di distacco Sull'Ando Norris Che adesso però Può usare il DRS Guardalo lì Sainz Come sta perdendo Eh anche noi Stiamo perdendo Un pochino Oggio Oggio Spingi Spingi Eh Norris L'abbiamo superato In quella staccata Secondo me Se l'è legata Al dito Quel sorpasso Poi lì Fortunatamente Ha sbagliato anche Oddio Sto facendo un po' Di errorini Di troppo Però Ha sbagliato anche Perez E ce la siamo Svangata Entrambi In realtà Errore qui Errore Bloccaggio Eh ancora Non era capitato Nelle prove libere Mi è capitato Un sacco di volte Sono andato troppo Sul cordolo E lì abbiamo perso Un pochino Il contatto Con l'asfalto E con il grip Più che altro Almeno su quel cordolo Che è un po' Più stronzo Cercherà soffrire Un altro giro Con Norris Alle calcania Sainz però Si è riavvicinato Si sta compattando Il gruppo Qui dietro C'è Norris E poi incollate Le due Ferrari E Max Verstappen Le due Ferrari Hanno perso Un pochino Al pit Nel senso Che Sainz Ha perso Andando a mettere Le due Gasly ha perso Forse per Questioni tempistiche Proprio Perché noi siamo Entrati dietro di lui Ma siamo stiti Davanti a lui Verstappen Forse semplicemente Per Il nostro Overcut Si è ritrovato Lì dietro Norris Che ha fatto La nostra stessa Strategia Invece Lo ritroviamo Dietro di noi Probabilmente Se non fossimo Riusciti A superarlo Lì Norris Però Attenzione Perché Velo Damose Damose Attenzione A Lando Eh ma Sono vicini Però gli altri Lando Quasi ci prova Ha provato Una staccatona Clamorosa Lì E adesso Farà l'ultimo Tentativo Probabilmente In zona DRS Lì Nell'altra Staccata Dobbiamo guadagnare Un pochino Qui Per averlo Un po' Più Distante Ultima uscita Qui Guarda lì Le Ferrari Incollate Anche tra di loro Lottano Gasly Sainz E anche Max Attenzione a Norris Che non ci prova Qui Chiudiamo la porta E signori Andiamo Clamorosamente A vincere Il gran premio Di Silverstone Con la sportiveggiante Mamma mia Che gara Signori Impeccabile Anche dato dal fatto Che come detto Mi aiuta un pochino Il fatto che Silverstone Sia un po' Più facile Senza traiettorie Rispetto ad altre piste L'auto andava bene Siamo riusciti a fare Dei sorpassi Però Impeccabili Ci siamo infilati In staccata In modo Clamoroso E anche la scelta Di rientrare il giro dopo È stata Ottima Dai E questa E questa mi sa Che è la prima vittoria Della sportiveggiante O sbaglio Il muso è un po' Sgraffiato Che abbiamo Toccato qualcuno Mi ricordo Però un po' Sgraffiatino Eccoci Guardalo che stile Gran gara Gran gara Pure Norris Comunque Oggi Noi e Norris Abbiamo fatto Una gara Devastante Bravi tutti Ma bravi noi E Norris Norris partiva Quinto E è arrivato Fusler Ci ha fregato Perez Il giro veloce Ma perché? Cioè Per carità Bellissima gara Però lui partiva Quinto E è arrivato Secondo Noi partivamo Sette Mi siamo arrivati Prima Scusa Questi poteri forti Signori Risale la classifica Sportiveggiante Scala la classifica Meglio di Aston Martin Forse Siamo a Cento punti Tondi tondi Noi Sesti nel campionato Piloti Quinti nel campionato Costruttori E costruttori Vabbè La McLaren Comunque sta macinando Mercedes Red Bull E Ferrari Vabbè Cosa dire Cosa dire Però Signori Spero che vi sia Garbata la gara Dai Devastante Grandi sorpassi Soprattutto Devo dire la verità Che mi sono divertito A sorpassare Staccata Ricciardo Norris Più Perez Che ha sbagliato Quindi Oggi mi sono divertito Devo dire la verità Oggi mi sono divertito Ci ha fomentato Silverstone E prossimo appuntamento Invece sarà In Austria Dove Ma Ci potremmo Fomentare anche lì Vedremo È arrivata È arrivata La miglioria Dell'alo Se non vado Errato Allora Esperienza E concentrazione Secondo pilota Facciamo questo Che ci sta E c'è qualcosa Spot promozionale Va bene Poi 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 Andiamo a vedere Un po' di punti Ce li abbiamo Allora Andiamo a controllare Qua ci manca ancora Qualcosa di aerodinamica Però Attenzione signori Vedete che pian piano Ci stiamo facendo valere Ci stiamo facendo valere Vediamo se c'è qualche sconticino Da qualche parte 5% Ok E qua dobbiamo migliorare E 5% pure qua Allora O i cerchi leggeri Andiamo lato telaio Che non sarebbe mica male Alleggerire l'auto Guarda Io vado con i cerchi leggeri Che addirittura Arriveranno Ah no Dopo la Francia Vabbè Ci sta Perché telaio comunque Non è che siamo Top Top E quindi Ci può stare 21 giorni di attesa Va bene anche così Mentre per quanto riguarda Questo qua che deve arrivare Anche lato aerodinamica Non siamo granché Penso solo lato motore Siamo devastanti Sì Lato motore Ma di tanto Cioè Indipendentemente dalla tacchetta Che sta oltre Però Già vedendo Red Madonna Ferrari Un tracollo ha avuto Ferrari Lato motore Com'è possibile Noi invece abbiamo continuato A macinarlo Quindi Motore top Quello della sportive E questo ci aiuta Perché possiamo magari Bilanciare con un assetto Un po' più carico Mantenendo comunque Una velocità di punta Molto alta Perché il motore Spinge lo stesso Ma avendo un'auto Che va un pochino A bilanciare le sue pecche Una volta che avremo Migliorato telaio Aerodinamica Là poi Si vola Si vola Va bene signori Noi ci vediamo Al prossimo appuntamento Direttamente in Austria Sul Circuito Red Bull Ring Spielberg Chiamatelo come volete Ci vediamo Alla prossima Signori Mi raccomando Like Condivisione Seguitemi Sull'altro sito Per le live Secondo canale Eccetera Alla prossima Saluto a tutti Da Guelta Leale Alla prossima